Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che attenzione vedrà l'avvicinamento all'Italia di una massa d'aria fredda proveniente dall'est Europa netto calo delle temperature anche se come condizioni meteorologiche ritroveremo anche ampie zone di sireno però il calo termico sarà davvero marcato. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese, tornano degli annuvolamenti sul versante adriatico portati appunto da queste correnti da nord-est e poi un po' di variabilità continua a interessare anche le isole maggiori ma come precipitazioni in realtà poco da segnalare, sì magari qualche fiocchettino di neve potrà tornare sull'appennino centro-meridionale specie quello centrale versante adriatico, qualche goccia di pioggia passa sulla Sardegna e poi a fine giornata un po' di neve sulle Alpi occidentali. Quindi in definitiva ci attende una domenica che ci regalerà sì ancora ampie zone di sireno ma con un netto calo delle temperature guardate massime quasi ovunque al di sotto dei 10 gradi solo in Sardegna che sarà l'ultima regione a essere raggiunta da quest'area fredda raggiungeremo ancora valori abbastanza miti. E poi vi dicevo qualche nuvola che passa sul versante adriatico qualche fiocco di neve a fine giornata sulle Alpi occidentali, qualche gocciolina di pioggia forse anche qualche fiocchettino di neve in Puglia e sulla periodo centrale ma per il resto non mancheranno ampie zone di sireno. Attenzione però al vento perché soffrirà in molte zone davvero sostenuto. Per sapere nel dettaglio a questo punto quanto freddo farà anche da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.